Se diamo 130 milioni a ferrovie e autobus, mi pare giusto che la Regione si faccia carico anche di sostenere il proprio aeroporto. Così, alla vigilia della relazione in Consiglio regionale sull'aeroporto delle Marche. All'Assemblea Spacca dovrà chiarire il futuro dello scalo, gravato dai debiti, almeno 7 milioni di euro quelli conclamati, e da ultimo da uno scandalo che ha portato all'accusa di peculato per il direttore generale, ora sospeso, Marco Morriale. Con la carta di credito aziendale è accusato di aver pagato multe personali, organizzato gite sulla neve e addirittura cene e lume di candela per un totale di 15 mila euro. Ai consiglieri dovrà spiegare come mai la Regione non si è intervenuta prima e soprattutto che cosa voglia fare in futuro. Andiamo avanti, da soli, ma avanti, dice Spacca. Premesso che bisogna proseguire su una strategia di sostegno integrata al nostro aeroporto, si tratta di trovare le combinazioni giuste per poterlo fare, sapendo che ormai è crederci, è rimasta solo la Regione. Praticamente tutti quanti per loro valutazioni, per difficoltà proprie, si sono allontanati da questa infrastruttura che invece noi, ripeto, continuiamo a ritenere fondamentale, determinante.